8 e 5 di mattina ho dormito però mi girano continuo ad avere una profonda tristezza dentro di me più che altro per tutto il tempo che perderò nel sistemare il motore ci sono qualche idea su come farlo e può venire fuori una cosa molto figa però tristezza anche perché volevo usarla st'estate la moto e so già che non la userò però a questo punto è arrivato il momento di formulazione allora il programma di oggi prevede m2 cs res in cap italy alla faccia m4 gd3 m4 drive experience e finalmente è arrivato ciccarone non ci credo è arrivato ciccarone incredibile bene allora può essere che la giornata giri però a te non te la fanno guidare cica tanti fanno guidare elettricicoli pedala piuttosto che verrà che fare con te sai cosa ecco una cosa prenderla super meglio di molto buona quello che serviva il cappuccino un po scompostino però almeno la schiuma ha tentato di farla in modo ci hanno provato ecco la mitica zaffirona di cesare grandissima del 2001 non è che 1700 e 2002 sdti attenzione quindi un motore completamente diverso non so se sia più vecchio del 2007 mamma mia cesare che macchina che hai top non mi ero reso conto della meraviglia di questo oggetto quadro candeletta aspettiamo che si spenga primo colpo meraviglia via dai girocato eccolo qui ore 9 e 12 si arriva 8 chilometri 8 da qui per cui è meglio ci muoviamo perché devo essere lì alle 9 sono già in ritardo ok siamo arrivati in via dai girocato grandissimo dai girocato andate a vedere chi è se non lo conoscete cosa gli è successo e quanto forte era perché comunque era motociclista molto bravo la via è intitolata a lui e l'autodroma invece intitolato a grandissimo marco simoncelli che avevamo già citato nel corso di questo blog detto questo siamo arrivati in autodromo appunto un po di coda per entrare fila tipo mileno l'unica cosa di cui sono veramente dispiaciuto è il fatto che devo ridare la zaffirona a cesare quasi quasi me la comprare questa macchina bellissima bravo cesare sei un buon gustaio abbandoniamo il potente mezzo cesare occhio perché mi sa che stasera te la frego di nuovo mi sono innamorato il tuo zaffirone e mandiamo su macchine un po meno belle un po meno eroiche però un po più potenti un po più adatte diciamo alla pista di miseria vedo della gente straordinaria qui incredibile ti giro intorno perché merita un 360 avete aperto il canale nuovo con galeazzi non vi arrestate mai per ma galeazzi quante vite ha troppe almeno quante gatti vabbè non occorre fare pubblicità perché hanno già tipo 77 mila milioni di iscritti ma come si chiama drive tech tech drive tech drive iscrivetevi perché sicuramente trovate la roba giusta buongiorno cioè io non so mi devo adesso adesso mi inginocchio adesso mi inginocchio davvero ciao vado bene così si va bene vado bene però adesso mi alzo perché ho la schiena distrutta grazie ce la fai ti aiutiamo si ce l'ho fatto eriberte sono venuto in moto ma ho sbronzinato lo sai ai curvoni no no sbronzinato all'entrando uscendo dal tramonto cioè uscendo dalla quercia quercia verso tramonto nuovo è come all'onso d'altronde essendo la quercia si è impiantato esatto bravo cicarone bravo tu si che sai tirarmi sul morale detto questo anche eribert però è uno che quando c'è il morale gv lo tira sulla grande però oggi cosa facciamo eribert oggi facciamo flessioni si e poi dai serio una volta provate m4 m3 e la m2 cs che vedo la quella da competizione la facciamo quella si si ma la guidiamo stiamo passeggero allora non vale allora non vale allora non esiste ancora la m2 nuova però mi dice eribert che già questa inizia a camminare 374 cavalli la faccia 374 inizia a andare una roba abbastanza seria poi arriverà anche la m2 quella vera però già così iniziamo a divertirci la macchina alla piattaforma della vecchia fondamentalmente però è stata molto 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 aggiornata poi abbiamo se non vedo male eribert qui nella scuola bmw driving experience che fa sempre parte del giro di guidare pilotare posso immaginare sono sempre della serie 2 i 220 diesel che adesso sono mild hybrid ah sono ibridizzati quindi in ogni marcia spinge perché il mild hybrid è dentro al cambio perché hanno certo mentre una volta funzionava solo con la prima adesso in ogni marcia c'è quella spinta in più di 21 cavalli 16 cavalli che non è male già qualcosina e 4 e 4 queste posteriore integrale posteriore ma avrete anche l'integrale da provare beh meraviglia quella che va meglio tu che le guidate tutte e due questo è posteriore capito però però un posteriore però un integrale bella questa bmw perché spinge prima dietro poi davanti e in più si può anche disattivare l'alteriore si potete fare anche due ruote motrici 4 ruote motrici sport però pesa di più che privilegia il posteriore ti ricordo invece 4 4 vd e il classico però pesa di più prendete la posteriore e basta e noi noi non discutere prendi la posteriore vanta lino che te lo porti di italiano e poi poi i cavalli vengono sparsi per quattro ruote quintalino non va bene ma certo se vai in montagna eccetera può essere anche utile sempre posteriore metti lì le invernali vado su e basta passo di traverso capito tu che sei tutto aia presentati ciao piacere sono daniele villa motore online dagli un po di ritmo vai e cosa stiamo facendo bravissimo allora dimmi visto che so che tu sei uno che sa tutti i dati di tutte le macchine dimmi quanti cavalli ha questa questa 510 510 buono competition che differenza c'è da una m4 normale questa dovrebbe essere x drive quindi abbiamo anche un rimando all'anteriore quindi un po' più sicura un po' più gestibile probabilmente quelle che venderanno di più della novità oggi m4 competition poi abbiamo l m3 m3 competition qua fianco sempre molto buona che lei colore sempre grigio molto figo tra l'altro rimando un pochino un grigio di un altro costruttore raffa romeo si vede poi abbiamo anche vieni qua vieni che poi abbiamo ancora la competizione che già un po' più il mio pane diciamo abbiamo anche il bombardone qua a fianco bombardone da competizione però qui vedi bella ti piace questa è un'altra quanti cavalli ci spara questa ecco qua non sono informato di serie quanto fa questa è la competizione 410 quindi non hanno taroccato più di tanto il motore però gli hanno fatto l'assetto come vedi dagli angoli da paura sia davanti che dietro bella scamberata roll bar tutta acquittata giù cattivissimo scarico alettone m performance che bello il volante da paura se apri per benino adesso sta aprendo mancini numero uno adesso apri il motore apri la portona vedi guarda che bello roll bar ma vengono mantenute tantissime cose di serie all'interno di questa macchina come la leva del cambio la vedete che esattamente quella di serie con il volantone però da corsa e tanti altri dettagli che chiaramente la fanno essere una macchina straordinaria dal punto di vista dinamico tra l'altro noto delle pinze freno dell'alcon molto fiche questa è una quattro pistoncini guardate che bella ricavata dal pieno straordinaria bellissima come è fatta non l'avevo mai vista questa dal vivo molto bella veramente e anche davanti abbiamo sempre alcon visto che belle che sono le pinze del freno manci quella dietro è uno spettacolo quella davanti è un 6 pistoncini invece con un disco in acciaio un po meno bella dal punto di vista estetico quella dietro è veramente lavorata che sembra un alieno apriamo il motore manci ed è quello qua 6 cilindri 3000 manci com'è sto motore ma forte dai non sta a prendermi per il culo come va c'è il intercooler intercooler quello è molto buono ma se mi 6.000 stavo dicendo un 3000 6 cilindri cavalli 410 mi indicano della regia mi piace molto la barra d'uomi guarda come è fatta che barra d'uomi da questa parte è cos'è alluminio acciaio questo alluminio di alluminio più quest'altra davanti lo vedete questo irrigidimento in fibra di carbonio molto bello chiaramente tende innanzitutto a sombra e tendere esteticamente la bellezza di questo di questo cofano motore ma poi anche a delle funzioni meccaniche che servono per irrigidire tutto l'insieme chiaramente c'è tutto il pacchetto aerodinamico e da una macchina che è un bel siluro poi la proviamo anzi no andiamo seduti a fianco del pilota peccato ciao a tutti massimo roccoli massimo roccoli c'è più del più del numero uno non so nemmeno io come come dirti oggi sei istruttore qui bmw driving experience gli stavo raccontando la mia esperienza con 11 98 s di ieri e giustamente sottolineava il fatto che purtroppo non è se ma è quando se rompe il motore detta così che detta così è brutta però vabbè non è non è quello però quelle moto lì adesso quelle nuove diciamo non sbrunzino più quella lì aveva è qualche dai quel qualche problemino magari quando la porti in pista gli tiri un po il collo ogni tanto sono tristissimo sono tristissimo gli dai troppo gas gli dai troppo no no non ne do troppo gas ma senti massimo cosa stai facendo adesso di attività sportiva di attività sportiva continuo a correre ancora nel civ qualche gara di mondiale un team con con the angelis alex dove cresciamo giù che tra l'altro anche alex è qua un istruttore della si si esatto assolutamente c'è anche william e fratello e oggi sono qua con l'auto quella specialmente dedicata ai ragazzi disabili e la portiamo in pista è il 128 dietro si guarda vieni te la faccio vedere questo è il 128 t quindi un 265 cavalli 2000 turbo benzina è la macchina dedicata ai ragazzi disabili andiamo dal lato andiamo a vedere di là tra l'altro bmw diciamo anche una grande esperienza in questo tema perché ha fatto correre per anni zanardi esatto di fatto quindi anche dall'esperienza di alessandro si è partiti credo per per sviluppare poi questo progetto speriamo poi di rivedere presto alessandro in forma come l'abbiamo sempre visto speriamo ovviamente e però insomma anche da qui si può far godere le persone assolutamente sì anche perché quando siamo seduti alla guida siamo tutti uguali come vedi chiunque che non riesce magari a fare tante altre cose seduta la macchina può fare il curvone 200 all'ora è un normo dotato che cosa abbiamo fatto chiaramente meglio in alcuni casi chiaramente cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di vincolare il discorso dei pedali perché in caso di decelerazione o comunque di curve veloci i piedi si possono spostare quindi come facciamo partiamo da un buon ancoraggio di facciamo incrociare le gambe in modo che così non si sposta da nessuna parte questo è il nostro cerchiello che cos'è il che non è altro che il nostro comando gas che viene montato in questa posizione con lì guarda eccoci qua e ok viene montato in questa posizione qua si utilizza come schiacciando vedi con i due pollici e posso schiacciare tendenzialmente la guida rimane come per un norma notato anche perché a destra al pedal per aumentare le marce a sinistra per scalare e questo è il nostro freno quindi ma sai che forse anche col guidando con le mani forse anche più sensibilità che siamo abituati anche accelerare il gas della moto assolutamente la prima volta che hai guidato un quadro una moto d'acqua magari risultato perché il gas a pollici in realtà sulle mani e sulle dita l'abbiamo una grandissima sensibilità più del piede abbiamo delle città ti piedi vengono gli consigliamo di mettere in questo modo qua in modo che così almeno ok non si moda nella parte abbiamo una cinta come vedi a quattro punte certo quindi ti lega le gambe e viene legato da sopra oltre alla classica tradizionale perché cerchiamo questo ancoraggio con il corpo perché in base anche alla frottura più o meno alta uno ha più o meno controllo quindi come per i norma dotati l'importante avere un buon ancoraggio con le gambe per essere poi morbidi con le braccia così lo facciamo anche per i ragazzi disabili e bellissimo questa cosa tra l'altro specialmente questo è il programma di bmw italia per quanto riguarda appunto tutto diciamo la parte di assistenza nel sociale eccetera eccetera sono molto bravi fanno delle cose molto carine tra l'altro anche alessandra dava spesso a sciare per dire con ricordi le cose con con lo sci e quindi diciamo bmw molto attenta a questi dettagli che non sono dettagli anzi sono delle cose molto importanti e se uno vuole può venire qua la bmw drive experience e godere con te godere di questa giornata è straordinario con quest'auto qua noi possiamo fare tutti i corsi dal flat al drifting a corso di guida sportiva sicura divertirsi ma cosa fate a casa venite subito aspetta che devo alzare tantissimo la telecamera a nicola villani ciao nicola allora mi manca il dtm affine a te eh lo so anche a me manca ci siamo divertiti con il dtm l'hara e un'altra roba ma cosa c'è qua sotto tu che sai tutto di gare gt dai che lo sai m4 gt3 bella già visto i monar e la gara di valentino infatti lo stavo dicendo anch'io che ha corso già prima vittoria anche in imsa long beach questo weekend davvero si inizia a camminare sta macchina guarda quanto alto l'allettone sembra la macchina di batman fatta così questa è per te ah si questa è già più per me questa è già più per me nicola hai perfettamente ragione anche se mi piacerebbe moltissimo che la moto devo essere sicuro sì perché la moto comunque hai il contatto diretto col motore lo senti eccetera a meno che non sbronzini come ho fatto io ieri siamo in romagna è il motore è il motore il motorino è il motore cosa stai facendo adesso eurosport a manetta dakar l'ho seguita tutta parola per parola hanno imparato qualsiasi cosa ho imparato un sacco di cose da te arriviamo di a rendo durante 24 ore di Le Mans e poi altre cose che ti racconterò grandissimo sigfried store capo immortale inviolabile ma è molto molto di più ma molto di più cioè pilota di formula 1 perché il corso in formula 1 beh certo ex voglio certo voglio vedere però allora m4 g3 m1000 rr la m1000 rr quindi già una moto fotonica giù abbiamo visto che fatti corsi per i disabili corsi per le macchine quelle diciamo avere ti mancano i corsi di moto li facciamo in le facciamo però facciamo solo la guida sicura nel centro di guida sicura perché abbiamo una clientela abbastanza ridotta quindi in questo momento stiamo erogando comunque dei servizi per bmw con le moto itineranti fanno delle prove stradali la pista l'abbiamo fatta in passato ma è molto complicata perché noi lavoriamo solo per ragioni di sicurezza con pista in esclusiva è certo e con pista in esclusiva è difficile lavorare preferiamo fare corsi di guida sicura nel centro di guida sicura dove c'è una piccola ingling di un chilometro e soprattutto lavoriamo sugli esercizi la moto è fisica è certo stare in sella la posizione del corpo come muoversi in certe situazioni migliorare l'handling anche nel traffico cittadino che la situazione più pericolosa al solito analisi straordinaria dico così perché sono in romagna quindi bisogna dire straordinario detto questo però a parte gli scherzi mi piace tantissimo come organizzate i vostri corsi sono molto professionali siete veramente da anni da quanti anni è che hai la scuola di guida sicura 40 anni già finito di fare pilota di formula 1 subito diretto e tra l'altro qua la struttura di misano sta crescendo tantissimo ieri sono andato trovare cesare nella nuova area straordinario bellissimo quindi anche bel posto e cresce anche grazie a te sicuramente è una piccola parte che contribuisce detto questo avete tra l'altro mi è venuto in mente della moto perché avete degli insegnanti motociclisti straordinari roccoli de angelis avete delle persone che i due de angelis tra l'altro vanno fortissimo in moto ma vanno fortissimo anche in macchina quindi è una scuola veramente molto completa soprattutto vanno fortissimo nell'insegnamento perché a me di avere uno che va forte ne trovi quanti ne vuoi ma non mi trasmette quindi è la capacità empatica di sapere entrare in dialogo con la persona capire i suoi problemi ma anche capire la strategia per lavorare certo devono essere dei veri coach e dei veri psicologi è vero perché poi anche i tuoi libri quando li legge sono quasi più psicologici che di altri nel senso che poi tu sei anche laureato in psicologia infatti i libri sono molto belli sono scritti molto bene leggeteli tanta roba sta moto è bellissimo il forcellone con la capriata rovesciata molto bella sempre la struttura del telaio trato molto smagrite rispetto a quello che era precedentemente la prima serie della s 1000 rr lo vedete anche qui con questo traio un po a z vi ricordo un po la nsr io lo so che quelli che hanno la mia età si ricordano di questo telaio e poi c'erano anche altre moto con il telaio fatto in questo modo qua bella la pinza m blu guardate che bellina che è con chiaramente il suo disco in acciaio forcella marzocchi chiaramente qua parliamo di una moto con tutte le sospensioni irregolabili elettronicamente se non ricordo male anzi sicuramente aerodinamica paurosa stile motogp e poi vabbè tanta altra roba per farvi volare i cavalli sono 218 non ricordo quanti cavalli ha ma 215 forse vissuto 14 quanti cavalli a stamotu un miliardo ditemi a che assomiglia questa qua aspetta a sergio rubini o max gazzè cazzo sei uguale sei sputtato Sì, in realtà è lui, veramente C'ho anche delle foto con Max Gazzè Non ci credo E lui cosa ha detto? Ma no, sembra una fratelli Te le faccio vedere La cosa drammatica è che l'amorosa è innamorata di Max Gazzè Ma è vera sta cosa Ti giuro Cazzo, siete identici, mandamela sta foto Ti prego che la metto sulle video Devo fare delle domande a mia madre Identici, sì, ma è tua mamma Però tu fai un lavoro straordinario Ce l'ho le copie del volume? Di cosa? Allora vai avanti te, poi dico io Però tu fai un lavoro straordinario Rolling Steel E' una bomba Anzi è una bomba Lo seguite Rolling Steel? No, però adesso è uscito il giornale Ho le copie del giornale Bravo, me ne hanno detto C'hai una? Certo, dopo lo facciamo vedere Di brutto Di brutto E' atomico, la gente è impazzita E' assoluto Mi ha avuto 3.000 copie C'è La gente è impazzita Quanto lo vede l'altro? No, lo vendo 24 euro più 5,50 euro Perché la carta, ci mette della carta Che costa un milione di euro a pagina Più o meno sì, è carta, è pergamena Pergamena egipta No, è un lavoro incredibile Io poi non mi chiamo un bondatore di cognome Quindi mi li stampo io Mi li produco io Li spedisco io Tutto tu? No, è tutto io Però seguitelo anche su Facebook E anche chiaramente su Rolling Steel Perché è veramente figo È un giornale che va a riprendere anche Soprattutto delle cose fighe del passato E le reinterprete in chiave moderne Le ritiri fuori Mi sto divertendo con un matto E quest'estate vado a Bonneville Non ci credo Sì, ho già preso gli aerei Vado a Bonneville A vedere Dovrebbe esserci un tentativo di superare Le 1.600 milioni Lo fai tu? No, io vado a vedere Allora se no lo fai tu Cosa voglio fare? Esatto Bellissimo Di brutto Eccolo qui Rolling Steel Adesso voglio vedere se vale veramente 24 euro questo È atomico, dai A faccia Bella La carta è molto figa Visto che siamo vicini a Pasqua È pieno di easter egg Cioè di contenuti Guarda che bello È da assaporare Dalla prima all'ultima parte Questa foto è mia, lo sai? Con la gum per tappollo? No, scherzo No, scherzo Bellissimo Perché poi parli di aerei Non parli solo di macchine Parli di tante cose Che hanno Esatto Guarda che bello Vedi moto Macchine Aerei Sì, così Guarda che bello Bravo Bellissimo Mandamelo una copia un giorno Esatto Te ne avanza una Supplichi La pago La pago Mi raccomando Prima di cominciare Un video che racconta un po' tutte queste emozioni Un po' la filosofia che ha ispirato queste attività E tutto quello che vi andremo a raccontare durante la giornata Quindi Video, grazie La pago è stata la prima La prima La prima La pago è stata la prima Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info bello, mamma mia quanto l'hanno abbassato cambia moltissimo, anche sotto il cofono il passaggio dalla M6 alla M3 G3 segna anche una rivoluzione per quanto riguarda l'architettura del motore perché al posto del V8 che abbiamo visto sull'M6 c'è un 6 cilindri in linea tutto dietro l'asse delle ruote, almeno il più possibile rispetto a quello che è chiaramente la lunghezza fotonica del motore ma quello che vi invito a vedere di questa macchina è l'altezza, il posizionamento del motore stesso che è veramente raso terra e questo fa chiaramente la differenza anche rispetto alla vettura di serie che ha altre tipologie di impiego, una vettura che non deve toccare per intenderci banalmente sull'asfalto quando si prende una buca, invece qui questo problema è molto più relativo quindi si riesce ad abbassare tutta la meccanica, si abbassa di conseguenza il baricentro e si fa lavorare anche molto meglio tutta quella che è la struttura della vettura chiaramente con un baricentro diverso, le spessioni lavorano meglio, tutto lavora meglio più bilanciato e chiaramente tutto è orientato verso la performance parte da 590 cavalli, anche se poi il BOP, il balance performance, andrà a stabilire quello che è la potenza disponibile per i piloti di questa M6 però chiaramente lavorando anche con il cambio sull'asse posteriore, questo trans axle credo che comunque di potenza gliene arriverà moltissima ma sicuramente il fatto di essere baricentrata così in basso è una bella grande rivoluzione per questa M4 GT3 dobbiamo fare il briefing, non devi mangiare scendiamo in pista, facciamo un briefing sulla nuova serie 2 la nuova Coupé G42, di light prodotto, solo che fondamentalmente la struttura rimane quella precedente ma cambia molto da un punto di vista estetico, aerodinamico e chiaramente ci sono tutta una serie di accorgimenti tra cui anche l'ibrido che consentono a questa macchina di essere più avanti rispetto alla generazione precedente abbiamo iniziato col 220D, ho fatto un paio di giri e è una macchina che funziona aggettivamente molto bene chiaramente 190 CV in pista sono niente però la potenza è nulla, senza controllo, quindi sì, è nulla nel vero senso della parola per i 190 CV appunto sono poco in pista ma avendo un bilanciamento fatto bene questo telaio di questa macchina ti consente di guidare molto bene, Eribert è bilanciatissima, già diesel per uno normale basta avanza basta avanza per uno normale sta macchina direi hai capito, non è che ti serve tanto consuma pure poco, cosa vuoi di più? divertiamo un po' perché guidiamo la 240i quindi 374 CV 374, vero? sì, esattamente Williams de Angelis grandissimo, grande manetta, sia macchina che in moto adesso però andiamo a divertirci, guido io, guido io, andiamo molto bene, saliamo a bordo della nostra... godo tantissimo 6 cilindri in linea, bilanciamento perfetto 1750 kg, questa può essere l'unica negatività di questa macchina ma sappiamo che BMW, soprattutto con questa piattaformina dell'M2 ci aveva già regalato grandissime soddisfazioni, sono sicuro che anche qua le soddisfazioni saranno molteplici scendiamo in pista a Misano un autodromo direi di carattura international ci corre sempre la MotoGP, ci potrebbe correre tranquillamente anche la Formula 1 ma diciamo che sono più orientati verso le moto anche se poi le macchine comunque le fanno detto questo, entriamo? vado? vai ah, sente che bene che gira sto motore cambio velocissimo ZF autorapporti sterzo bello, precisino uno sterzino di quelli giusti andiamo a stare belli stretti qua e poi andiamo ad andare giù tutto verso la staccata della quercia questo qui, il quercione esattamente, è rimesso proprio anche la quercia adesso il cambio sembra un doppio frizione è una cosa bellissima come hanno evoluto nel corso del tempo questi cambi giù 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 c'è un po' di controllino di trazione chiaramente bellissimo come suona questo motore chiaramente è un po' enfatizzato dalle casse all'interno dell'abitacolo ma già di suo ne ha ne ha parecchio bella di sterzo chiaramente si sente che pesa perché c'è c'è un po' di peso nel momento in cui andiamo a ad appoggiare andiamo a girare curvone, ce lo spariamo a canna 213 all'ora vedi, ecco, ci siamo iniziamo a pensare di frenare guarda che bellina che è stabile in sterzo questa frenata è difficilissima per una macchina perché freni forte, freni appoggiato qua ci vuole bilanciamento e ci vuole l'impianto frenante che va iniziamo un pochino a raffreddare purtroppo il giro era breve ma abbiamo avuto un'esperienza intensa appunto a bordo di questa M240i che sicuramente riproveremo ma avevo il piacere di farvi vedere insomma in pista quanto bilanciata è quanto spinge perché spinge veramente forte di motore ripeto, bella di avantreno l'hanno migliorata rispetto alla precedente generazione è più larga, ha un camber negativo sul frontale molto importante e questo consente a questa macchina di appunto avere un bel inserimentino consente proprio anche di andare a bilanciare quella che è la negatività di questo peso del resto volete 374 cavalli? volete che la macchina cammina? serve gomma, serve freno, serve cerchio serve telaio, serve tutto per cui chiaramente poi il peso va su è un gatto o un cane vedetela voi come volete che si morde la coda va bene, dopo la serie 2 adesso tocca alla M4 Competition X-Drive quindi macchina trazione integrale che ovviamente ha dalla sua una performance assolutamente fotonica tra l'altro una cosa che mi piace farvi notare è che cambia il logo su questa M finalmente arriva il logo nuovo eccolo qui che riprende un po' dalla storia del marchio ma identifica direi in modo totale quello che è questo brand che appunto si evolve e guarda anche verso a nuovi mondi questo è il brand vecchio eccolo qui invece quello che vi ho fatto vedere prima è quello nuovo BMW M3 Competition ma quella con la trazione integrale X-Drive vi do subito un assaggio di quello che è in grado di fare giù tutto guarda quanta strada fa fuori dalla curva è incredibile la differenza che c'è tra la trazione posteriore di questa macchina e l'X-Drive è qualcosa di straordinario perché anche 210 all'ora perché anche nelle varianti mettiamola così di X-Drive anzi scusate nelle varianti S-Drive si viaggia molto forte quelle con la trazione solamente posteriore ma con questa X-Drive si va fortissimo che quando metti giù metti giù tutto 80-20 e si va di un forte senza senso telaio anche questo che nasce per le competizioni fondamentalmente perché tutta l'esperienza di questo telaio clare è stata riportata all'interno del progetto M4 GT3 ovviamente M3 è più morbidina di scocca rispetto a quello che può essere una M4 che è più rigida per sua natura ma qui c'è la bellezza di portarsi a spasso una macchina che va molto forte e soprattutto si può condividere questa prestazione con tutta la vostra famiglia è un po' quello che succede ad esempio in prodotti come la RS6 e come succederà anche con la prossima generazione di M3 Touring che presto arriverà in concessionaria va straforte 510 cavalli sono sempre tanti e si sentono tantissimo ma quello che mi piace è che questa trazione integrale non spinge sull'assa anteriore cosa che succede con altre trazioni integrali ma si comporta esattamente come la trazione posteriore ma vi fa fare tanta 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 strada fuori dalle curve si va come satellite e poi mi piace anche che questi freni che sono già buoni nella variante in acciaio che ho provato sulla M4 qua comunque frenano e tolgono tantissima velocità permettendovi di arrivare belli 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 cucini 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 alla all'apex della curva anche appunto se ve la prendete un po' sportiva con la frenata faccio quest'ultima accelerazione poi dobbiamo rientrare i box si ma ce n'è ce n'è quanto ne volete è una supercar nella veste di una berlina guarda come gira qua dentro 215 218 all'ora ciao ciao proprio meravigliosa meravigliosa veramente una macchina stratosferica che ha delle prestazioni assurde di motore assurde di telaio assurde di sterzo assurde di tutto è un progetto che si sente che BMW si porta avanti dalla notte dei tempi ci hanno corso anni con queste macchine l'hanno evoluta per anni hanno evoluto i motori telaio espressione e tutto e oggi ci ritroviamo in mano sto pezzettone di macchina che certo pesa perché pesa 1750 kg circa più o meno 1800 fate conto si sente che c'è quel peso lì quando ti va a inserire in curva quando si appoggia si sente che lavoricchia ma lavorano a velocità che quelle vecchie si scordano e questa poi è la vera differenza cioè qua giri 5 secondi al giro più veloce della precedente generazione DM3 e tenete conto che solitamente di step by step nelle precedenti generazioni si migliorava di più o meno 2 secondi qua hanno migliorato di 5 rispetto a quella vecchia giusto per darvi il metro di quanto più forte va questa macchina fa battere il cuore veramente fa battere il cuore va fortissimo e non riesco a trovare certo in pista poi magari per strada si trovano i difetti delle macchine ma in pista considerando cos'è questa macchina ovvero una berlina a 4 porte si va di un forte straordinario ora qui la BMW 128T specialmente è una macchina molto particolare perché fa parte di un programma che BMW porta avanti da moltissimi anni il testimonia il principe di tutto questo è e sudolino è Alessandro Zanardi ed è un programma che consente anche le persone disabili di godere delle performance di una BMW di godere delle performance di una macchina come questa che ha 245 cavalli anche in pista allora saliamo a bordo della nostra 128T con noi Massimo Roccoli grandissimo anzi ti faccio vedere ciao 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 a tutti eccoci qua c'è davvero lui quindi grandissimo onore allora davanti a me ho l'acceleratore come ci ha fatto vedere a dito il freno a mano e quindi davanti a me ho la pedaliera ma in realtà è bloccata come abbiamo visto per cui non posso diciamo affidarmi a questa però tutti i comandi sono esattamente identici io incrocerei le gambe esattamente come fanno i ragazzi che vengono qui a provare l'unica cosa che è uguale poi va giù prende bello entra in pressione il circuito l'unica cosa che non posso fare è regolare il volante si può se venite voi a fare il corso Massimo ve lo regola ma diciamo che adesso i tempi sono un po' troppo stretti per fare anche questa cosa metto in drive esatto vado vai allora partiamo in modalità eco pro ma non perché voglia no 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 è giusto perché ho piacere che siamo abituati sempre al comando del gas e quindi a mettere le mappature a gestire con i piedi in questo caso avrei piacere che hai la possibilità di provare proprio anche l'utilizzo del gas puoi tranquillamente anche usare i pollici sai che è una sensazione stranissima è una cosa cioè boh è stranissima provi a sentire anche come il freno mentre vai esatto freno freno poia bello meccanicamente agisce direttamente certo poi c'è una leva c'è anche una proporzione immagino anche un po' abbastanza favorevole chiaramente alla spinta con i piedi un attimo che non arrivi nessuno ma è pianino porfavoro frena che c'è la macchina ok facciamola passare c'è la M2 della competizione M4 anzi benissimo ma eppure vado vado allora gli diamo un po' di gassone si cambia da sola chiaramente in automatico esatto la prestazione è sempre la stessa di quella con 245 cavalli quindi 265 scusami mi sono sbagliato prima nel video ho detto che era 245 una volta che ci fai la mano è naturalissimo guidare così forse è quasi non dico che è più naturale che guidare coi piedi perché noi siamo abituati da una vita a guidare coi piedi ma secondo me una volta che ci fai la mano con questi meccanismi come dicevamo prima poi tu sei motociclista quindi certe cose ce le insegni meglio di chiunque altro puoi avere anche più sensibilità quindi è semplicemente questione sport e ti metto anche il cambio beh qua siamo al top ok così almeno hai la possibilità di sentire tutte e tre le reazioni sul comando del gas poi si spinge il gas è che non mi fido tanto con il comando a mano ti voglio ancora prenderci un po' qua basta raddrizzare un pelino prima e basta bella un po' di gas beh dopo un po' secondo me che ci giri non ti accorgi neanche di usare questi comandi assolutamente ci credo è assoluta confidenza Alessandro Trofanin responsabile comunicazione prodotto di BMW Italia lo ripeto perché l'avevo già sbagliato precedentemente ma adesso l'ho fatto giusto allora abbiamo guidato la 128T specialmente che è un programma che vi portate avanti da un bel po' di tempo 2016 2017 testimonia il principe assoluto è Alessandro Zanardi che chiaramente salutiamo e a cui auguriamo guarigione però è un programma anche molto particolare perché avete grande attenzione per le persone disabili che magari vorrebbero venire in pista però pensano di non poterlo fare invece qui si può certo si può e sorprende quanto sia normale e tant'è vero che lo scopo dell'inclusione di persone disabili sulla pista è proprio quella di fare i corsi insieme agli altri quindi non sono corsi dedicati ma sono cose che vengono fatte esattamente insieme agli altri all'interno della scuola quindi dalle BMW con lo stesso livello di difficoltà cioè non è che avete un corso più facile il corso è esattamente lo stesso esattamente lo stesso e quindi chiunque può sedersi sulle nostre vetture ovviamente allestita adecuatamente per provare esattamente in pista come tutte le altre persone specialmente è un programma che non fa solamente corse di guida in pista attraverso la BDE ma fa anche altre cose specialmente è un contenitore è un contenitore di tutto quello che è la corporate social responsibility del gruppo e quindi ha tutti i programmi di inclusione o di sostenibilità ad esempio vanno a sciare o fate delle cose c'è sciabile ci sono tante tante iniziative che permettono proprio di dimostrare questa potenzialità che c'è anche persone che hanno avuto problemi nella vita possono comunque vivere alcune emozioni alcune esperienze allo stesso modo nel proprio piano anche e con direi BMW perché no mi sembra una bella cosa grazie mille grazie Alessandro grazie BMW che comunque ha fatto delle cose sicuramente molto carine e full gas sempre anche con l'acceleratore a volante Max hai fatto il giro sulla C2 una musica sì ho girato no è impressionante bella alla fine della fiera il motore è la cosa meno impressionante perché è fondamentalmente stock c'è scarico aspirazione poca roba ma con le slick paura la butta dentro che è incredibile bellissimo non vedo l'ora di montare sulla M2 CS da competizione non sei stanco che tutto il giorno che giri è pagato per correre è pagato per correre se sei stanco se te lo dice il capo poi vai 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 tu ma quando hai la possibilità di girare così tanto è bravo ti alleni per benino no bravo infatti uno ci deve godere la cosa bravo 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 guarda che bel casco si ho visto molto bene è arrivato dunque il momento di salire a bordo dell'M2 CS se non vedo l'ora che bella che è questa macchina bellissima era un po' che cercavo di salirci non ci sono salito da pilota ma anche da passaggero scompevo molto bene detto questo chiedo all'altro di Dalle Piane di spiegarmi un po' la macchina se ti va certo finché siamo qui a bordo finché ci preparano perché ci sono alcune cose che accomunano questa macchina moltissimo alla macchina di serie tipo la plancia è esattamente quella di serie tipo questo tunnel centrale che viene spogliato del rivestimento ma è esattamente quello che trovate sotto quando smontate la macchina tipo la levia del cambio che è esattamente uguale poi invece cambiano un po' di cose perché arriva la roba da corsa quindi arriva il volante che sembra quello della Playstation ma in realtà è quello della macchina vera da corsa ed è questa cosa divertente arriva una strumentazione molto 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 completa e un nuovo pannello per quanto riguarda la parte di indicazione della vettura le impostazioni anche per quanto riguarda alcuni dettagli che possono essere anche utili soprattutto ai gentleman driver assolutamente la macchina è dotata di sistemi elettronici controllo di stabilità vedi si possono selezionare tre livelli di inserimento uno tutto attivo uno parzialmente attivo e uno totalmente disinserito DSC immagino che sia controllo di stabilità esattamente come quello dell'auto di serie FDS regola la risposta del generatore alla velocità di cambiata serve non vuol dire fai da solo no non vuol dire fai da solo però il significato è vicino perché quando piove hai una modalità che ti aiuta per guadagnare un pochettino di trazione il cambio è la doppia frizione di KG si attua con le palette dietro al volante e hai la marcia a destra la marcia a sinistra il cambio rimane quello di serie la paletta noto essere quella di serie non fa un bel click violento da corsa peccato il cambio è quello di serie chiaramente con una taratura dedicata al motorsport abbiamo questa leva che è per liberare la macchina quindi una sorta di un freno a mano alla vecchia primordiale un freno a mano e il tasto per metterla in moto senti che bene che suona spettacolo bella adesso ci facciamo un paio di giri qui a Misano e vediamo come va questa M2 450 cavalli 450 cavalli non sono pochi poi la macchina è molto alleggerita rispetto a quella di serie dobbiamo già polverizzare un M3 ma la polverizziamo in due curve mi piace tantissimo come frena questa macchina perché arriva veramente a fondo poi i cordoni li prende alla grande per questo giù 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 bellissima cambio veloce ma non secco come un vero cambio da forza però direi che è già più sufficiente adesso vediamo il pulone a canna qui testa qui è bella bella bellissima Bella e precisa l'inserimento, molto precisa l'inserimento, accelera forte, si sente che è molto bene gestita anche a livello di differenziale guardate come arriva bene alla corda e come si può passare anche bene sui cordoni, questa è una cosa che mi piace molto di questa macchina lui ritarda la traiettoria qui, a me piace di più tagliare tutto, poi qua è solo una questione di gusti, è importante stare stretti qui perché poi se no perdi una vita, qua aderiti bellissima, bravo Bella La frenata è veramente impressionante, frena forte sta macchina, bravi Alcon qua Alcon qua c'ha il suo, poi c'è la schiera, bravi Bella e bestia veramente Bellissima, bravo, complimenti, bellissima macchina, vedo che fai delle traiettorie un po' strane, immagino per, come dire, ritrovarti dritto sul rettilineo il prima possibile Perchè puoi usare il minore angolo di start possibile E magari facciamo qualcos'altro Allora è stato molto bello, ma veramente bellissimo Forza Alex, come sempre, mi raccomando, tieni duro Ma lo so che tieni duro, tieni più duro di tutti E niente, che ringraziamo BMW perché è stata un'esperienza veramente fighissima Come sempre questa giornata, non è la prima volta che la fanno, è stato veramente molto bello Ritrovi amici, ritrovi professionisti, ritrovi persone che ti possono insegnare qualcosa Ritrovi la passione per l'auto Ritrovi anche una scuola di guida sicura Che è la BMW Driving Experience Che è la ex guidare e pilotare, chiamatela come volete Che di fatto ti consente di migliorare Ti consente di progredire Ti consente di affinare quelle che sono le doti di pilota O anche Ti consente a chi non è mai stato in pista Di provare l'ebrezza Di guidare delle macchine che vanno come siluri Perché tutte le macchine che ho provato io oggi le potete provare Anche quando venite qui alla scuola E vi fate i vostri turni Con questo è tutto, mi raccomando, viva la passione per l'auto E full gas così Sempre Ciao